45 anni di Celta, un'azienda tutta italiana, siamo qui con Sandro Dionisi che è già stato direttore di Telecom Italia Lab. Dunque, quando si parla di cyber sicurezza il tema della ricerca emerge prepotentemente. Quanto è importante la ricerca per sviluppare un framework nazionale ed europeo di cyber sicurezza? La cyber security è chiaramente un tema sempre di un aggiornamento e quindi è chiaro che anche qui, come tutti gli altri temi che riguardano le telecomunicazioni, il mondo delle telecomunicazioni, la ricerca è sicuramente importante anche per inseguire sia ovviamente le nuove sfide, le nuove minacce, quelle che possono essere nuove minacce, andare anche a vedere come i nuovi sistemi, le nuove infrastrutture sono esposti o meno in termini vulnerabilità alle vecchie, alle nuove minacce e quindi è chiaro che hanno un ruolo fondamentale dal punto di vista anche di andare a riconoscere un ecosistema in qualche modo da tenere sotto controllo, sia dal punto di vista delle contromisure che dal punto di vista dei meccanismi di processo da instaurare all'interno delle aziende. Lei ha usato la parola ecosistema che è una parola chiave quando si parla di cyber sicurezza. A che punto siamo in Italia rispetto allo sviluppo di un ecosistema a 360 gradi che possa garantire la difesa del perimetro cyber del paese? Ci sono buone notizie in termini anche di approccio un po' più uniforme, controllato, diciamo meno dispersivo come può essere in passato. Quindi sostanzialmente, questo io credo davvero che bisogna parlarsi molto sia a livello nazionale che oltre, quindi sia a livello dei vari telco. È un percorso da fare perché sicuramente non siamo a un punto ottimale, però ripeto, in questo momento vedo una luce in fondo al tunnel che comunque lascia ben sperare. Passi in avanti si stanno facendo. Però è un ecosistema anche da in qualche modo creare insieme, non solo fra il mondo telco ma anche con le altre società che in qualche modo possono essere interessati da attacchi cyber e ovviamente col mondo istituzionale col quale già noi come team siamo in ottima connessione, però è un percorso che cerchiamo anche con loro di migliorare.